Due monaci, uno anziano e l'altro più giovane, stavano rientrando presso il loro monastero attraversando un sentiero fangoso e pericoloso. Durante il percorso incontrarono una giovane donna intenta ad attraversare un fiume di fango. Vedendola in pericolo e incapace di prendere una decisione, il monaco più anziano decise di prenderla in collo e aiutarla ad attraversare quel fiume. Una volta lasciata la giovane donna, riprese il percorso e si avviò verso il monastero. Arrivati presso il loro rifugio, il monaco più giovane domandò all'anziano, mi scusi padre, ma l'ho vista fare qualcosa che non si addice a un uomo come lei, non è un comportamento da un monaco prendere in braccio una donna. Al che l'anziano monaco rispose al giovane novizio, mio caro, io l'ho lasciata là, mentre tu la stai ancora portando. Auguri di buona rinascita a tutti.